La prima ritmica in ottavi che devi conoscere è questa. La sua particolarità è la quarta pennata sulle vare della terza pulsazione. Per la seconda ritmica sostituiamo una pennata con un colpo di rullante per un effetto ritmico più interessante e incisivo. Per la terza ritmica tutte pennate verso il basso con gli accenti sulle vare per dare del movimento al nostro groove. Per la terza ritmica sostituiamo una pennata con gli accenti sulle vare della terza pulsazione.